Ci siamo tornati E ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Sono Mr. Mario E oggi siamo tornati su Trollface Quest Unlucky Possiamo iniziare Eravamo arrivati al livello 22 Però mi è partito dal 24 Perché? Ah no il 23 L'ho fatto per caso ragazzi Mi pare di averlo fatto nella scorsa puntata Non lo so Vabbè iniziamo Praticamente questo Toro ha una cerniera Quindi Io in verità volevo solo Togliere la cerniera Cosa sta succedendo? Ma chi se ne frega Io voglio continuare a giocare A Trollface Quest Troppo realistico C'era il tizio dentro C'era il tizio E io l'ho visto e non sono Che bella rana Calmati E' una rana Ma questo gioco esattamente Non senso Ce l'ha Ah ovvio ragazzi Ovvio Dai un soldi a un banchiere Ti si Dai La segna al banchiere Quello ti Materializza Ti materializza di un milione di dollari Molto ovvio Cosa è successo? Ancora Oh ancora Ancora sto gioco Sai cosa me ne frega Di questo gioco? Sai? Possiamo andare avanti Come lo posso fare Se non Così Ho tolto il livello Ho tolto il volume Al gioco E mi ha fatto andare avanti Che carini Quei pesci Quello non è molto carino Che carino Cos'è? Cos'è successo esattamente? Vabbè Andiamo avanti Cos'è successo? Ancora? Raga È impossibile giocare così Però Allora Ah Raga Questo Come mi sta puccidendo Forse ho capito Così Dovevo toccare Il troll face quest Il troll face E basta Una chiave E un cane Wow Vabbè Questo trapana E ovviamente Questo piange Sì Ma se tipo Provo a fare È morto Quel povero tizio È morto Non so perché Ragazzi Ho trovato Il verso del ragno Andiamo anche a te Cos'è? Tira su Che faccia C'era pure quello Ecco Non ero sicurissimo Vabbè Andiamo avanti Ragazzi 13 FL Cosa è successo Di preciso Vabbè Sistema Ah Però Il piano 13 C'è andato Alla fine È finito il gioco Davvero È finito il gioco Ragazzi Guarda Il tizio Come piange Ragazzi Facciamo i 5 livelli Speciali Che mi hanno rotto Ste pubblicità Facciamo i 5 livelli Nuovi Perché Ci sono qui E io voglio farli Il primo è questo Allora No Un attimo Non so cosa si deve fare In sto livello Boh Ogni cosa che tocco Ride Qui Cosa c'è? Non so cosa si deve fare Qui ragazzi Cosa si deve fare Non lo so Facciamoci dare una dritta E adesso E adesso Cose ragazzi Cose Cosa devo fare? Ah 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 raga ho capito No non ho capito Non lo so Boh non lo so ragazzi Non lo so Sì ma adesso Cosa devo fare ragazzi Cosa devo fare? Non lo so ragazzi Stiamo finendo Tutta la puntata Tutta la puntata qui Ma perché? Non lo so ragazzi Non capisco Cosa si deve fare Dimmi cosa devo fare Non lo so Non lo so Non lo so ragazzi Non lo so Cosa ho fatto? Cosa è successo? Non lo so Andiamo avanti Ma quanto sei bello Cosa si deve fare Di preciso Non lo so Non lo so Ragazzi Non lo so 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 Cosa? cos'è questo non è un gioco questo è missionario cos'era cosa si deve fare qui cos'era vabbè andiamo a questo cosa vuole fare in teoria in cosa consiste questo livello non so cosa devo fare ragazzi sicuramente sono cosa devo fare niente non lo so ragazzi impossibile dove sono su con la vita tanto qui non concludiamo niente cosa si deve fare no raga è impossibile a diventano felici niente ma cos'è sta cosa ma esattamente il senso cos'è cos'era vabbè abbiamo trovato l'ultima cosa niente la chiave però non c'è cosa è successo ho vinto ragazzi ho fatto tutti i livelli seriamente niente ragazzi li abbiamo fatti tutti tutti ormai va bene ragazzi se queste due puntate di troll face unlucky vi siano piaciute lasciate un commento mi piace qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci vediamo il prossimo video ciao ragazzi probabilmente il prossimo video è sempre su troll face ciao ragazzi ciao ciao